Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo ancora qui per il nostro appuntamento che riguarda la medicina ayurvedica. In particolar modo questa sera tratterò l'argomento che ci riconduce anche alla sorgente da cui deriva la medicina ayurvedica. Intanto ringrazio come sempre Focus 3.0, il mistero della vita, Enrico Ballantini, Anna Tamburini-Torre di avermi dato questa opportunità di poter partecipare e presentare questi argomenti in queste dirette. Ringrazio tutti quelli che si sono collegati e che mi mandano i saluti, vi saluto tutti e questa sera vorrei approfondire ulteriormente gli argomenti trattati nelle due dirette precedenti dove avevamo soprattutto toccato l'argomento che riguarda la medicina ayurvedica. Intanto vi ricordo per chi magari non mi conosce dagli altri incontri o non mi conosce in generale, io sono farmacista e mi occupo di questa grande scienza e pratico la meditazione trascendentale, quest'anno sono 44 anni, quest'anno raggiungo diversi traguardi, 44 anni di meditazione trascendentale, 30 anni di studio della ayurveda e 50 anni di laurea, quindi insomma sono molto contenta di poter condividere orgogliosamente con voi questo percorso, perché come potete immaginare è iniziato in tempi non sospetti quando di queste cose si parlava un po' sottovoce per timore così di essere indicati come strani, particolari, senza i piedi per terra e invece questo mio progresso in questi anni fino a diventare per me tutto questo una professione conclamata è per me di grande orgoglio, ma non solo per me in quanto ho realizzato il mio traguardo, il mio desiderio, l'approfondimento di questa grande conoscenza, ma anche e soprattutto in questo momento per la possibilità che lo studio che ho portato avanti per così tanti anni mi dà di proporre e sostenere con questa grande conoscenza le persone che si avvicinano a me e che sono interessate da questo argomento. Il momento, no, è inutile che vi ricordi che è molto difficile, critico e a maggior ragione in questo momento abbiamo bisogno di stabilità interna, ma la cosa importante che poi mano a mano vi chiarirò ancora di più nel corso del svolgimento del mio argomento è che la tranquillità di ognuno di noi quando si somma e ci sono ricerche statistiche che lo dimostrano porta tranquillità all'intero pianeta, quindi abbiamo bisogno in questo momento di qualcosa di concreto per ridare tranquillità all'umanità, tranquillità nel senso di direzione positiva, direzione non violenta, direzione non aggressiva, ma come ben sappiamo se una foresta deve essere di un bel verde brillante, tutti i suoi alberi devono essere di un bel verde brillante, quindi da soli non andiamo da nessuna parte, quindi il poter condividere per me questi passaggi che ho fatto nella mia vita e che sono diventati anche la mia professione, che hanno formato la mia conoscenza scaturita dalla mia laurea in farmacia in una direzione che è di estremo aiuto alle persone, mi rende particolarmente felice e questo lo volevo appunto condividere anche con voi. Tutto il discorso, l'argomento che abbiamo trattato negli altri incontri riguardava il concetto di salute, di come mantenere la salute, di come recuperare la salute e chi ha partecipato anche agli altri incontri si ricorderà che vi ho citato dei punti molto importanti che ci riagganciano poi all'argomento di questa sera. Salute in sanscrito che è l'antica lingua della scienza vedica ed è la più antica lingua che si conosce ed è la madre delle lingue indoeuropee, quindi ogni radice dei nostri termini che usiamo comunemente ha un profondo collegamento con la lingua sanscrita. E appunto salute in sanscrito si dice svasta, svasta, due radici sanscrite, sva significa se, sta stabilizzato, stabilizzato nel se, nel momento in cui io ritrovo la mia vera radice profonda che è lì da sempre che non ho perso, forse un pochino dimenticato perché la vita scorre talmente veloce, siamo talmente sollecitati da quello che ci circonda di piacevole soprattutto, a volte anche meno piacevole, che questa esperienza diretta di colloquio interno la perdiamo. Sul tempio di Delfi si legge questa frase greca gnozis e auton, a chi magari ha studiato greco si ricorda, no? Che cosa vuol dire? Gnozis e auton vuol dire conosci te stesso, ma conosci te stesso non nel senso di capire quali, quali sono i nostri gusti preferiti in campo alimentare piuttosto che in campo di spettacoli cinematografici, di musica e così via. Conosci te stesso nelle tue fibre più profonde e tutta la scienza vedica, no? La scienza appunto, diciamo quel complesso di grandi conoscenze strutturate migliaia e migliaia di anni fa da questi saggi, no? Il nome in sanscrito di questi saggi è Rishi, Rishi vuol dire letteralmente colui che vede, no? Colui che percepisce queste fibre profonde e fondamentali delle leggi di natura. Abbiamo avuto tanti Rishi e continuiamo a avere tanti Rishi anche nell'epoca moderna, no? Quei grandi scienziati, quei grandi artisti, quei grandi pittori, quei grandi musicisti che hanno avuto questo dono, no? Di nascere con la capacità di collegarsi intimamente con loro stessi e produrre una esperienza artistica o un'esperienza scientifica. Migliaia di anni fa questi saggi, questi Rishi hanno formulato le strutture fondamentali delle leggi naturali. Direte ma cosa ci serve, cosa ci interessa? Ci serve profondamente perché abbiamo capito sempre di più ultimamente, ancora più drammaticamente quanto il dialogo con la natura, quanto il rispettare la natura, ma per rispettarla dobbiamo anche conoscerla, conoscere le esigenze della natura e conoscere le esigenze della natura del nostro organismo. Quindi il colloquio e l'interazione con le leggi di natura in maniera corretta ci permette di sostenere, no? Si dice un mondo sostenibile, di sostenere noi stessi e di sostenere il mondo che ci circonda. Quindi questi Rishi, ognuno con le proprie caratteristiche diverse, no? Come vediamo nel nostro mondo, ognuno di noi ha sentito l'attrazione per fare un determinato tipo di studio, un determinato tipo di lavoro o un determinato tipo di scelta nella propria vita, no? Si maturano già da bambini, no? Si fa la domanda classica, ma tu da grande cosa vuoi fare, no? E vengono fuori le risposte più svariate, influenzate ovviamente da tutto quello che circonda dal bambino. Ma mano a mano che il bambino cresce e diventa un adolescente, sempre di più dovrebbe, no? Dico dovrebbe, ma in realtà è proprio strutturato nelle molecole del nostro DNA. Questa esigenza che in termini sanscriti si chiama Dharma, no? Dharma vuol dire per che cosa sei nato, no? In maniera riassuntiva, quali sono le caratteristiche determinate da cosa? Dalla carta d'identità con cui nasciamo. E questa carta d'identità da cosa è influenzata? Dai pianeti che ci circondano, dai segni zodiacali che ci circondano, dalle costellazioni lunari che ci circondano. Una degli aspetti della scienza vedica è proprio quello che si chiama Jyotish. Jyotish viene dalla radice Jyoti, Jyoti vuol dire luce. Il Jyotish è quello che chiameremmo, chiamiamo l'astrologia vedica, ma è un'astrologia molto molto precisa, molto molto matematica. Pensate che con i calcoli dell'astrologia vedica riusciamo a avere, oltre che la nostra carta d'identità, no? Caratterizzata dal nostro ascendente, con quale costellazione è correlato, costellazione solare è correlato, con la nostra luna, in quale di nuovo costellazione solare è posta, con le diverse aree della vita, quali pianeti contengono, adesso vi do solo degli accenni per farvi capire la precisione dell'astrologia vedica, quali costellazioni lunari sono presenti nel momento della nostra nascita che ci permetteranno di calcolare tutti i periodi della nostra vita. La matematica qui veramente la fa da padrone, ma la cosa peculiare di questo aspetto della scienza vedica, che appunto si chiama Jyotish, è che calcola precisamente il momento della nostra nascita tenendo conto del fatto che l'asse terrestre ruotando su se stesso ha un piccolissimo movimento che varia all'angolazione della terra rispetto al cielo intorno a noi. Questo movimento viene chiamato dagli scienziati nutazione ed è quello che causa anche la precessione degli aquinozi, no? Quel movimento retrogrado che fa sì che noi, che con quella che è la nostra astrologia che considera invece un cielo immutevole intorno a noi, e con questo ovviamente fa un errore di calcolo piuttosto importante, questo fa sì che noi in realtà retrocediamo di 23 gradi, perché ogni anno, ogni centinaia di anni, ogni mille anni c'è un flusso retrogrado che in questo momento dall'efemeridi è calcolato di meno 23 gradi. Quindi chi come me pensava di essere pesci della prima decade ascendente, sagittario, sempre nella prima decade, prima decade sono 30 gradi, no? Retrocedi nel segno precedente e quindi io divento, anziché pesci ascendente, sagittario, acquario ascendente, scorpione, con la luna in ariete anziché in toro, no? Quindi vedete questa retrocessione. Questo adesso ovviamente è un argomento molto importante e molto ampio, ma è solo per ricollegarmi a quello che vi dicevo, no? Ognuno di noi nasce con questa carta di identità che descriverà a seconda della disposizione dei pianeti, delle costellazioni solari, delle costellazioni lunari, quelle che sono le nostre caratteristiche, no? Le nostre maggiori inclinazioni, no? Si dice, il nostro maggior desiderio poi da realizzare nella nostra vita. E chi come me è riuscito a realizzare il proprio Dharma, no? Perché pur avanti negli anni, ma comunque coltivandolo, come vi ho detto, da più di metà della mia vita, no? Parliamo, vi dicevo prima, di 44 anni, più poi via via in questi step di questi 44 anni, vari approfondimenti, può sentirsi felice, realizzato, contento. Soprattutto, vi ripeto, perché questa grande trasformazione che mi ha portato questa mia crescita professionale, mi ha portato una trasformazione personale, io posso trasmetterla, condividerla e proporla alle persone con una discreta competenza, vista, no? La quantità di anni che studio tutto questo e la quantità di anni che applico tutto questo con le persone. Quindi, quando la scienza vedica ci dice, ognuno ha il proprio Dharma da realizzare, quel Dharma sarà collegato alla distribuzione dei pianeti, delle costellazioni lunari e solari nella nostra carta natale. E c'è un bellissimo studio portato avanti dal professor Tony Nader, che è un neurofisiologo libanese con la specializzazione alla MIT di Boston in neuroscienze, che ha messo in correlazione questi aspetti, che adesso vi nominavo, dei segni zodiacali, dei pianeti, delle case della nostra carta natale, con delle aree precise del nostro cervello. I pianeti sono da lui correlati con quelli che vengono chiamati i nuclei della base, i 12 segni zodiacali con le 12 paia di nervi cranici e le 12 case con le aree della corteccia cerebrale dalla parte anteriore alla parte posteriore alla parte laterale. Quindi questo è uno studio molto intelligente che ci permette di dare una dignità scientifica alla bistrattata astrologia, soprattutto quando, ripeto, come vi ho spiegato prima, nell'astrologia vedica ci si correla a quella che è proprio la struttura dei pianeti al momento attuale intorno a noi, pianeti con stellazioni intorno a noi. Graziella, che ha il mio stesso nome, mi chiede come è nata la passione per la medicina ayurvedica. Ma è stato, come si suol dire, tutto casuale, no? Se poi casuale è. Io, appunto, nel 78, quindi, come vi dicevo, quest'anno 44 anni fa, cercavo qualcosa, no? Allora, ripeto, era una ricerca difficile perché non esistevano, come adesso, scuole di yoga, lo yoga online, discorsi di approfondimento delle tecniche di meditazione. Quindi era molto, molto difficile poter accedere e approfondire questo argomento. Casualmente incontravo, quando scendevo dal mio paese alla zona sul lago, incontravo questo ragazzo, guarda caso, figlio di farmacisti, che ogni volta mi diceva, ma sai, io ho imparato questa tecnica che si chiama meditazione trascendentale e mi incuriosiva perché era proprio quello che io cercavo. Volevo, appunto, praticare yoga, cioè cercare qualcosa che mi permettesse di riconoscermi sempre di più con me stessa, no? Capivo che c'era qualcosa che ancora creava un divario, una così non completa disponibilità delle mie forze, della mia consapevolezza, no? Diciamo. E a un ennesimo incontro questo ragazzo, appunto, mi ha informato e dice guarda che ci sarà domani sera la conferenza di questa insegnante del centro di Milano e da lì io sono andata senza la conferenza con mia figlia che allora aveva sette anni e ho deciso che avrei fatto questo corso, insieme a me l'ha fatto anche mia figlia allora sette anni, la quale poi, per non smentire come ha detto lei durante la sua tesi di laurea alla domanda ma perché lei ha fatto questa tesi particolare laurea in architettura al Politecnico di Milano, mia figlia si è laureata con la tesi sulla architettura vedica, no? Quindi medicina ayurvedica si occupa della salute, Jyotish si occupa dell'astrologia e quindi di quelle che sono le caratteristiche con cui nasciamo, che dipendono, noi scientificamente diremmo nasciamo con l'influsso del codice genetico del papà e della mamma che a loro volta hanno l'influsso genetico, come ci dice l'epigenetica, di almeno sette generazioni precedenti. Nella scienza vedica tutti voi avrete sentito il termine karma, no? Si parla di karma, quindi l'anima che sceglie di di nuovo incarnarsi e fare il percorso su questo pianeta il suo karma farà sì che si incarni in quel momento, in quella situazione con quella carta d'identità che permetterà all'anima di fare il percorso per sempre di più cercare di realizzare che cosa? Moksha, la liberazione, no? Quindi Stapati Aveda, la laurea di mia figlia l'architettura con la tesi sullo Stapati Aveda o Vastu, l'architettura vedica, un'altra branca molto importante della scienza vedica, no? Dicevo appunto prima, per chi magari si è collegato adesso, vi voglio parlare stasera di quella matrice globale di cui fa parte la Ayurveda, di cui fa parte lo yoga, di cui fa parte appunto, prima vi ho descritto brevemente cos'è il Jyotish, l'astrologia, mia figlia, la laurea in architettura con la tesi sull'architettura vedica. Perché? Perché costruire una casa, costruire una città, costruire un ufficio, uno stabile in cui lavoreremo, deve secondo il Vastu, secondo lo Stapati Aveda, avere determinate proporzioni, avere determinate direzioni. L'ingresso, per esempio, il Vastu ci suggerisce che sia a est o a nord, non a sud, non a ovest. Gli ingressi più propizi sono quelli in cui il Sole ci sorgerà proprio decisamente davanti all'ingresso principale e dove c'è la stella polare, quindi a nord, i due unici ingressi consentiti. Poi ci dice, no? Tutti noi abbiamo sicuramente sentito che il letto andrebbe orientato in una certa maniera per dormire meglio, lontano da influssi elettromagnetici, eccetera, eccetera, e il letto va diretto con la testa verso est per l'evoluzione o verso sud per il ringiovanimento. Quindi no assolutamente il nord. Il nord, portato avanti da altri tipi di informazione, in realtà si collega al... ecco che c'è la domanda di Maurizio, il Feng Shui. Il Feng Shui è l'architettura, come dire, figlia del Vastu, dello Stapathia Veda, quindi Feng Shui e Stapathia Veda non c'entrano tra di loro, o meglio possiamo dire che il Feng Shui è un po' successivo allo Stapathia Veda e la conoscenza che proponeva la testa del letto rivolta verso nord, in realtà si rifà al fatto che Buddha è stato sepolto con la testa rivolta a nord, ma la testa rivolta a nord è adatta per produrre un processo di decomposizione del cadavere più veloce. Capite che qui non c'entra niente con la nostra evoluzione, con il nostro ringiovanimento che invece otteniamo con la testa a est o con la testa a sud. Quindi Stapathia Veda, ve l'ho citato citandovi il fatto che mia figlia ha portato avanti, quindi quello che in qualche modo si è seminato dentro di lei quando a sette anni, nel 78, ha iniziato con me la pratica della meditazione trascendentale e tornando a quello che vi dicevo, i passi secondo cui nella scienza vedica l'uomo progredisce, i pilastri della nostra esistenza sono appunto Dharma, quindi lo scopo della nostra vita, che realizziamo attraverso Arta la disponibilità di mezzi di sostentamento, perché come ben tutti sappiamo, se abbiamo una casa confortevole, se abbiamo una modalità lavorativa che ci sostiene, se possiamo anche sostenerci per le cure che dobbiamo fare aiurvediche a livello economico, Arta, il benessere, diciamo che deriva dal fatto che abbiamo dei mezzi di sostentamento è molto importante, quindi Dharma, Arta, Kama, il piacere, il piacere assolutamente è un aspetto molto importante per la scienza vedica, purtroppo circolano informazioni poco corrette del fatto che bisogna isolarsi, che bisogna reprimere i desideri, tutto questo è assolutamente sbagliato, il piacere, il desiderio, è qualcosa che molto spesso quando è sano, ed è sano tanto più in sintonia il nostro sistema nervoso, tanto più siamo autoconsapevoli, il desiderio ci guida anche verso la realizzazione di quello che vogliamo ottenere e come dicevo prima, ultimo aspetto e assolutamente più importante di tutti, Moksha, la liberazione, quindi finalmente uscire da quel gioco di continuo ritornare al punto di partenza senza avere capito più o meno niente, quindi la carta natale, chiede Raffaella, preparata secondo la tradizione vedica è più precisa, assolutamente sì, perché vi ho detto che tiene conto della precessione degli equinozi, della nutazione dell'asse terrestre e lo scopo della nostra vita ce lo dice, la carta natale assolutamente ce lo dice, nel senso che ci dice appunto qual è l'attitudine che domina la nostra esistenza, infatti fare la carta natale di un bambino è assolutamente molto prezioso, io l'ho fatto ai tempi per entrambe le mie figlie e sicuramente in qualche modo mi ha aiutato anche a orientarle o a sostenerle nel loro percorso. Quindi scienza vedica, abbiamo esaminato degli aspetti molto importanti, abbiamo parlato del Jyotish, l'astrologia vedica, quindi Jyoti, la luce, il faro che illumina la nostra vita per capire meglio quali sono le nostre tendenze maggiori, quindi per facilitarci questo progresso, questo cammino. Stapatia Veda, l'architettura, la casa in armonia con l'ambiente, in armonia con i pianeti, in armonia con il movimento del sole, questa stella importantissima per la nostra vita, il sole sappiamo, attiva l'assorbimento per esempio del calcio, attivando la vitamina D, quindi abbiamo tantissimi benefici dall'avere il sole più possibile fin dall'inizio sull'ingresso della nostra casa. La Ayurveda, la scienza della vita, la Ayurveda come direzione dal punto di vista di mantenere il più possibile la nostra salute in equilibrio e vi ricordate negli incontri precedenti avevamo parlato del fatto che la Ayurveda basa tutte le sue valutazioni sulla presenza nel nostro organismo, ma nell'intero organismo cosmico, è una frase molto famosa nella scienza vedica, che è Yata Pinde Tata Bramande, in sanscrito, com'è il microcosmo, così è il macrocosmo, e aggiunge anche com'è la mente umana, così è la mente cosmica. Quindi tutto quello che avviene nel nostro corpo ha un'equivalenza nell'universo che ci circonda. Ecco perché questo professore, questo neurofisiologo, è riuscito a dare proprio una correlazione tra i pianeti e il nostro cervello a livello dei nuclei della base, piuttosto che le costellazioni solari, le costellazioni lunari, con le corrispondenze anche con i nucleotidi, quindi con le parti che costituiscono il DNA. Quindi di nuovo la scientificità di dire, ma io sono arrivata con questo pacchetto di informazioni dalle generazioni precedenti, ed è chiaro che sarò più facilmente in sintonia con me stessa se faccio questo tipo di percorso. Quindi il solito dilemma, determinismo, libero arbitrio. Sicuramente quello che facciamo oggi, liberamente, quindi con il libero arbitrio, determinerà quello che succederà tra un mese, tra un anno, tra dieci anni. Quindi determinismo, come semini raccogli. Quindi più consapevoli siamo di noi stessi, più agiremo in armonia con le leggi di natura, più raccoglieremo un buon raccolto, più quel determinismo sarà leggero. Se io mangio male, per tornare un po' agli aspetti della Iurveda, mangio, come abbiamo detto che non bisogna fare, il pasto principale alla sera, mangio di corsa a pranzo, ignoro il fatto che è bene andare a dormire presto e svegliarsi presto. Quello che faccio adesso con queste cattive regole di vita, tra dieci anni le raccoglierò come disturbi fisici, psicologici, comportamentali e come condizionamento della mia vita. È molto semplice, abbastanza intuitivo da capire. Quindi oltre a questi aspetti che vi ho citato della scienza vedica, esiste un'altra branca molto importante. Pensate che nella scienza vedica ci sono circa 40 aspetti. Quindi ognuno di questi 40 aspetti rappresenta e, diciamo, interpreta delle frequenze delle leggi di natura. Quelli che abbiamo citato adesso, Stapatia Veda, Jyotish, Ayurveda, fanno parte, diciamo, di quegli aspetti della scienza vedica più facili da capire per ognuno di noi. Ci sono degli aspetti molto più sottili, si chiamano Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, Tarva Veda, che sono un po' come se noi pretendessimo di leggere un libro di fisica quantistica e capire cosa sta dicendo. Capite? Sono delle informazioni che questi saggi, questi risci, hanno percepito di quelle che sono proprio le regole e le fluttuazioni più sottili delle leggi di natura. Guarda caso che grandi scienziati, grandi fisici quantistici negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, hanno cominciato a desiderare di studiare il sanscrito, l'antica lingua della scienza vedica, e di studiare il Veda, la scienza vedica, perché avevano intuito quanto queste descrizioni frequenziali di questi saggi corrispondessero alle descrizioni frequenziali della fisica quantistica. Vi ricordo così che nel 1908 Max Planck ha preso il premio Nobel per la fisica proprio per le sue scoperte nel campo delle particelle sub-elementari. lui dichiarava, dopo aver dedicato la mia vita alla scienza più concreta che la fisica, ho scoperto che tutto quello che esiste è energia e la materia non esiste. Quindi qui noi dobbiamo fare un salto proprio di conoscenza, che non è facile fare, perché soprattutto noi che non abbiamo queste capacità anche di capire certe informazioni della fisica quantistica, che è ormai la scienza che sta sostenendo l'informatica. Io stasera come faccio a parlarvi attraverso questo mezzo collegata da un altro piccolo mezzo che ho qui a fianco a me, cioè il mio cellulare, in un bed and breakfast in Trentino, neanche a casa mia, perché la tecnologia è talmente avanzata che ci permette una comunicazione così ad alto livello. Questa stessa comunicazione non esiste solo a livello tecnologico di mezzi al di fuori di noi, ma esiste nella struttura più profonda del nostro sistema nervoso. Questa è la cosa più importante e possiamo dire che qualsiasi cosa l'essere umano ha immaginato, pensate alle saghe, alle saghe Harry Potter piuttosto che i ricercatori dell'arca perduta, tutte le saghe possibili e immaginabili che parlano di mondi fantastici. In realtà qualsiasi cosa il cervello umano immagina è perché in realtà esiste. La cosa più importante di cui comunque voglio assolutamente parlare stasera, viste le circostanze drammatiche in cui ci stiamo muovendo in questi ultimi giorni, è che c'è una ricerca statistica molto importante portata avanti fin dagli anni 70, fino al 1974, che è stata definita come effetto Maharishi, perché Maharishi Mahesh Yogi, che è stato colui che ha introdotto alla fine degli anni 50 in Occidente la tecnica della meditazione trascendentale, l'ha insegnata e ha formato persone che la potessero insegnare. Io, oltre che esperta di medicina ayurvedica, pratico appunto l'analisi del polso e così via, sono anche insegnate di meditazione trascendentale. E questo effetto Maharishi, dimostrato più volte statisticamente con indice di probabilità che l'effetto si manifestasse per caso bassissimo, dimostra il fatto che quando gruppi sufficienti di persone si radunano per praticare insieme la tecnica di meditazione trascendentale e le sue tecniche avanzate, incominciano a diminuire gli effetti criminali, gli effetti di terrorismo, gli effetti delle guerre, cioè si riduce, possiamo dire, l'entropia sociale. Questo, oggi come oggi, è importante che tutti voi lo sappiate ed è importante che sappiate che come organizzazione della meditazione trascendentale noi stiamo creando questi gruppi di coerenza. li stiamo creando intorno alla Russia, all'Ucraina, in Ucraina e in Russia, i gruppi dei nostri meditanti, con tutte le difficoltà che potete immaginare, si stanno radunando per creare questi gruppi e intorno, nelle nazioni, intorno all'Ucraina e alla Russia, stiamo creando questi gruppi. Di volontari, no? Perché queste persone, come me, che sanno che questo effetto esiste, non vedono l'ora di poter scongiurare questo pericolo enorme che si sta creando. E ognuno di noi che pratica la meditazione trascendentale, a seconda del fuso orario in cui vive, ha degli orari precisi, li chiamiamo orari di superirradiazione, che consentono che tutti noi in quel momento stiamo meditando in contemporanea e creiamo questo effetto di riduzione delle forze negative. Questo effetto di superirradiazione si crea anche a distanza. Quando è in presenza, l'effetto ovviamente è del 100%, cioè il gruppo in presenza, l'effetto si manifesta proprio a livello di cambiamento dell'andamento del caos delle nostre onde elettroencefalografiche si mostra per il 100%. Ma in, chiamiamo, differita a distanza, l'effetto è comunque forte perché è pari al 75%. La meditazione trascendentale, Raffaella dice, si dovrebbe introdurre nelle scuole e noi lo stiamo facendo perché negli Stati Uniti la fondazione David Lynch, il regista David Lynch, da più di 20 anni porta avanti questo programma nelle scuole, è molto diffusa negli Stati Uniti, nelle scuole, in Sud America, in Centro America. In Italia abbiamo delle scuole che la stanno introducendo, un comprensorio in Alto Adige, una scuola in provincia di Brescia, una scuola a Lucca e una scuola, la prima scuola è partita a tre mestieri che è una cittadina alle falle dell'Etna in Sicilia. Quindi assolutamente sì, la stiamo introducendo nelle scuole. La introduciamo ed è introdotta in tutto il mondo, nei centri di recupero per chi ha subito un forte stress. Parliamo di, ahimè, soldati, che adesso sono di nuovo messi in ballo in questa drammatica circostanza, che subiscono quello che viene chiamato il burnout, lo stress post-traumatico, che li porta fino al suicidio, capite? Perché queste persone hanno perso identità, hanno subito delle paure sconcertanti e ritornano dopo queste missioni con la vita spezzata. Con la meditazione trascendentale queste persone ritrovano il proprio benessere. Allora, con me ci si può mettere in contatto assolutamente, mi trovate su Messenger, comunque vi do, e ve lo potete scrivere, il mio numero di telefono, 335-5612-115. e la mia mail graziellabensi49-gmail.com Tra l'altro io domani sera alle ore 20 farò la conferenza proprio dedicata alla presentazione della meditazione trascendentale. Vi potete collegare semplicemente andando sul sito della meditazione trascendentale, www.meditazionetrascendentale.it cliccate o Piemonte cliccate Torino piuttosto che Valle d'Aosta a Osta io sono presente diciamo online per parlare della meditazione trascendentale per la Liguria, per il Piemonte, per la Valle d'Aosta, per la zona vicino a me Novara e provincia e Varese provincia e la presentazione di domani sera e che farò anche ripeterò il 9 di marzo è molto esauriente per capire di cosa si tratta. Qualche libro sulla meditazione trascendentale c'è sicuramente c'è appunto un libro che si chiama Meditazione Trascendentale piuttosto che altri testi importanti ma la meditazione trascendentale è importante praticarla non tanto leggere di cosa si tratta. Per capire di cosa si tratta basta che partecipate una mia conferenza tipo quella di domani sera del 9 di marzo piuttosto che vi leggete tutto il sito il sito è molto esauriente. La meditazione trascendentale è una tecnica la più studiata dal punto di vista scientifico e fa parte di quel corpo di conoscenze sempre nell'ambito della scienza vedica che chiamiamo yoga. Cosa vuol dire yoga? Yoga si sono anche le yoga asana quindi queste posture che permettono una maggiore armonia tra mente e corpo un collegamento più facile tra mente e corpo che sono di preparazione per quello che poi è l'esperienza appunto della meditazione trascendentale nella esperienza delle yoga asana è come se la neurofisiologia si acquietasse più facilmente per avere poi più facilmente l'esperienza assolutamente semplice naturale senza sforzo che ci porta alla meditazione trascendentale quindi la meditazione trascendentale non è una rielaborazione come avviene ormai diffusamente nel nostro mondo di qualche cosa che viene dai testi classici è la tecnica di base che esiste da migliaia di anni è semplice naturale senza sforzo sembra uno slogan ma proprio perché sfrutta la tendenza naturale della mente ad andare verso l'interno cosa vuol dire andare verso l'interno quella piacevole sensazione che ognuno di noi prova quando finalmente si sdraia nel letto e dice la mia giornata è finita ho fatto tutto quello che dovevo fare adesso abbandoniamoci a Morfeo purtroppo 30-35% di persone in Italia non riescono a dormire l'insonnia è un disturbo molto diffuso o disturbi del sonno come risvegli notturni piuttosto che quel sonno non ristoratore che a molte persone purtroppo capita di sperimentare quindi quando invece la mente soddisfatta della propria giornata si acquieta si acquieta si acquieta e poi ci addormentiamo questo è dovuto al fatto che la mente cerca spontaneamente di acquietarsi vuole spontaneamente acquietarsi uscire da quella frenesia della quotidianità nella meditazione trascendentale non ci si addormenta o meglio può anche capitare ma diciamo lo scopo della meditazione trascendentale è appunto trascendere cosa vuol dire trascendere nelle neuroscienze in questi ultimi 10-15 anni si sono scoperte delle cose molto interessanti che prima non si sapeva che esistessero si è scoperto che il cervello ha una sua attitudine a trascendere ad acquietarsi viene chiamato dagli scienziati default mode network di default il cervello entra nell'attivazione di percorsi neuronali che portano il cervello ad andare verso la quieta interna piuttosto che attivare dall'interno la corteccia cerebrale quindi quell'attitudine è indispensabile per il cervello perché è solo da lì che ripristina quello che noi chiamiamo omeostasi che non si limita all'omeostasi del cervello ma come sappiamo il cervello è l'organo che controlla tutti gli altri nostri organi e nel momento in cui il cervello si acquieta si acquieta la fisiologia e quando il corpo riposa elimina quei blocchi quegli ostacoli che sono stati determinati dall'eccessiva pressione dell'esperienza cioè dall'eccessivo essere sotto stress quando c'è uno stress continuativo il cervello collega la corteccia prefrontale dai nuclei più interni del cervello che sono i nuclei della risposta lotta e fuggi della risposta impulsiva quindi quando invece la corteccia prefrontale è ben collegata con quei nuclei profondi il nostro cervello riceve un'informazione altamente etica altamente morale altamente creativa e questo cervello ben collegato con la meditazione trascendentale si struttura sempre di più entrano in sincronia i due emisferi cerebrali le onde cerebrali dei due emisferi cerebrali entrano in sincronia e sono tutte in fase cioè tutte ordinate questo si produce solo con l'esperienza della meditazione trascendentale le altre tecniche possono dare sollievo dalla fatica relax tutto quello che volete non rifiutiamo niente ma un'esperienza così profonda così reale concreta e nutritiva viene solo dall'esperienza della meditazione trascendentale e non è un esercizio di prosopopea quello che sto facendo ma semplicemente vi sto riferendo quello che più di 700 ricerche scientifiche hanno confermato in questi più di 50 anni parliamo degli anni 70 da lì in avanti sono state diciamo approfonditi aspetti dei benefici della meditazione trascendentale in 700 ricerche scientifiche la tecnica è molto piacevole da praticare si pratica 20 minuti e due volte al giorno comodamente seduti a casa propria dopo averla ovviamente imparata quindi si fa un corso di apprendimento che dura 4 incontri consecutivi quindi non è impegnativo come corso di approccio e lo strumento per impararla è molto semplice la semplicità però va di pari passo al fatto che dobbiamo impegnarci a praticarla no? perché ma i nostri governanti è vero che dovrebbero praticarli in primis ma siamo noi che quando la pratichiamo nei gruppi influenziamo la coscienza collettiva perché siamo noi che scegliamo i nostri governanti e se non miglioriamo noi la nostra autoconsapevolezza non possiamo pretendere di avere dei governanti che rispecchino quello che noi sappiamo che dovrebbe essere fatto quindi è facile no? scaricare la colpa sui nostri governanti loro sono influenzati dalla coscienza collettiva se la coscienza collettiva non si eleva avremo sempre un Putin avremo sempre un ministro speranza avremo sempre un Draghi non ci toglieremo da questo circuito quindi siamo noi che dobbiamo fare i primi passi e come vedete la consapevolezza è molto molto più elevata rispetto ad altri tempi avete visto quanti sono scesi in piazza per dire no e rifiutare questo cammino di guerra però la forza ci viene nel momento in cui trascendiamo quindi vi ripeto noi stiamo facendo una grande opera sono orgogliosa di potervelo dire e di dirvi che partecipo da 44 anni a questo progetto abbiamo un progetto in india dove abbiamo già radunato 2200 ragazzi che praticano insieme la tecnica e le tecniche avanzate abbiamo 3000 ragazzi in nepal sostenuti anche dal governo nepalese perché le ricerche statistiche sono inconfutabili quindi la pace può venire solo attraverso questa strada di consapevolezza ricordatevelo non lo sappiamo ormai non stiamo qui a raccontarci le favolette non sono i trattati non sono ah quello lì è più bravo quello lì è più cattivo sono tutti allo stesso livello ma ognuno di noi brava la frella deve fare la propria parte quindi assolutamente io vi testimonio quello che il movimento di Marisci sta facendo da più di 50 anni e anche se più facile credere a una figura come il nostro gran buon e compianto Gino Strada che però cosa diceva io vorrei che non ci fossero più le guerre non ho voglia di andare a mettere a rischio la mia vita per salvare queste povere persone che sono sempre civili bambini anziani eccetera che saltano in aria sotto le bombe quindi il fatto di produrre una coscienza collettiva elevata per evitare la guerra si può fare assolutamente e vi assicuro noi lo stiamo facendo quindi questo è anche un messaggio di speranza perché sennò molti di noi stanno perdendo la speranza la fiducia questi due anni è inutile stare a dire quanto ci sono pesati addosso ma la speranza è grande dal punto di vista astrologico la lettura della cielo per tutta il pianeta terra da parte di questi esperti in India ci dice che ad aprile rientreranno nelle loro case più congeniali i pianeti e questo è qualche cosa che dobbiamo tenere presente certamente noi non dobbiamo mollare la guardia noi vi ripeto stiamo radunando persone si radunano persone in Ucraina in Russia a meditare insieme nonostante questa grande difficoltà che stanno attraversando nelle nazioni circostanti idem noi facciamo questi programmi online nelle ore di superirradiazione che sono le 7 e mezza del mattino e le 18 e 30 del pomeriggio chiunque di voi comunque vuole in quegli orari fare la propria meditazione la propria preghiera qualsiasi cosa lo faccia perché in quel momento quella raffinata energia si collega con tutte le altre quando poi se volete partecipare alle mie conferenze sulla meditazione trascendentale io vi approfondisco di più l'argomento come ho detto prima andate sul sito www.meditazionetrascendentale.it però per raccogliervi le informazioni fondamentali come vi ho detto prima è una tecnica molto semplice piacevole naturale senza sforzo 20 minuti due volte al giorno i bambini sotto i 10 anni la praticano per 5 minuti due volte al giorno a occhi aperti giocando qui in Alto Adige io appunto sono in Trentino per cui dico qui perché sono vicino all'Alto Adige questo comprensorio scolastico ha anche bambini delle scuole elementari che fanno la loro tecnica insieme giocando a occhi aperti 5 minuti due volte al giorno e imparano ovviamente come farla i bambini dai 10 anni in avanti fanno 10 minuti due volte al giorno a occhi chiusi seduti come gli adulti per tempi più brevi 10 minuti a 10 anni 11 a 11 e via via fino ai 20 anni la meditazione trascendentale consiste in che cosa qualche cosa di estremamente semplice naturale che rispetta quello che dicevo prima essere la tendenza naturale della mente ad andare verso l'interno default mode network quando la mente va verso l'interno gli scienziati cosa ci dicono sapete qual è la cosa più importante che fa un centenario e un ultracentenario vengono studiati dai gerontologi è avere un credo spirituale non ci sono praticamente negli ultracenterali atei quindi la spiritualità è fondamentale poi ognuno se la studierà secondo la tradizione della cultura in cui è nato qualsiasi cosa va bene però la spiritualità è quella che nutre i nostri telomeri che sono queste parti finali del DNA più sono lunghi i telomeri più viviamo a lungo e più siamo spirituali più si allungano i telomeri più viviamo a lungo ma viviamo a lungo bene non sulla sedia a rotelle a Villa Arzilla no? quindi nella nostra casa zappettando l'orto i centenari non fanno tanto esercizio fisico non si sfiancano con la corsa e questo e quest'altro in palestra fare delle cose disumane hanno un'attività costante regolare soprattutto legata a muoversi in campagna a muoversi nel bosco voi direte sì ma molti di noi vivono in città certo per carità però faremo quello che è congeniale a poter avere comunque il supporto della natura anche stando in città quindi quando noi pratichiamo la meditazione trascendentale diamo la possibilità al nostro dna di rigenerarsi e ovviamente mettendoci anche insieme i buoni consigli della medicina ayurvedica idealmente una casa costruita con l'architettura vedica e così via staremo ancora meglio però diciamo ognuno di noi farà quel passino che è congeniale alle proprie possibilità di tutti i tipi di incontrare la persona giusta al momento giusto di poter fare il corso ognuno però deve come diceva Raffaella prima ognuno di noi deve fare la propria parte io stasera appunto vi volevo dare questo messaggio importante perché non dobbiamo farci prendere dallo sconforto esiste la possibilità l'amministrazione trascendentale giusto per concludervi un po' il discorso si pratica come vi dicevo prima comodamente seduti ad occhi chiusi dopo aver appreso la tecnica nel corso di apprendimento e si viene poi seguiti adesso la possibilità online su zoom è fantastica per me poi soprattutto che seguo tante persone come avete un po' capito un po' in tutta Italia il potere dare il mio supporto su zoom almeno due volte al mese ai miei gruppi piuttosto che individualmente a chi ha bisogno in qualsiasi momento io prendo appuntamento con queste persone si pratica utilizzando mentalmente un mantra personale no mantra è un suono che viene da questa antichissima tradizione vedica un suono detto anche suono primordiale quindi un qualcosa di impalpabile sottile che semplicemente favorisce quella che è la tendenza naturale della mente ad andare verso l'interno quando la mente si acquietta vi dicevo già prima corteccia prefrontale si riassetta con i nuclei profondi del cervello le onde cerebrali diventano in fase queste onde perché tutto è energia tutto è frequenza trasmettano la loro energia positiva la loro coerenza anche alle onde cerebrali dei nostri vicini di casa piuttosto che quando vi ho detto prima abbiamo dei grossi numeri a tutta l'umanità scusate se è poco quindi ripeto questa serata deve essere per tutti voi di ispirazione su qualche cosa che sta già avvenendo siamo già in una fase di transizione no? l'avevamo capito l'avevamo scoperto la fase di transizione in chimica è quella fase che avviene quando l'elemento A si deve trasformare nell'elemento B l'acqua liquida deve diventare ghiaccio sottoposta a uno sbalzo di temperatura l'acqua da liquida diventa ghiaccio nella fase intermedia l'acqua iniziale limpida fase finale ghiaccio trasparente la fase intermedia è turbolenta e assolutamente opaca noi stiamo attraversando questa fase opaca però la luce è là in fondo quindi la luce si vede già aprile appunto gli esperti in India dicono che i pianeti incominciano un po' a riassestarsi non sarà l'uscita dal tunnel ma cominceremo a vedere che fuori la luce c'è ancora quindi io vi ringrazio di aver partecipato a questa serata chi mi vuole contattare ho visto già dalle altre dirette che poi alcune persone le ho anche poi incontrate personalmente mi fa molto piacere sono molto contenta è un onore per me trasmettervi quello che ho imparato in questi anni è un orgoglio vi ho detto più di metà della mia vita l'ho dedicata a questa crescita a questo approfondimento a questa formazione professionale quindi ringrazio tutti grazie anche dei vostri messaggi che ho letto grazie di nuovo ad Anna Tamburini Torre e a Enrico Ballantini per questa opportunità che mi hanno dato con questi incontri e ci vediamo presto e approfondiremo un altro argomento grazie a tutti buona serata e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti